È il primo sciopero virtuale della storia. Ad incrociare le braccia sono 600 dipendenti di Facebook che protestano contro il fondatore del social network che ha debuttato online nel 2004. Riuniti sotto la sigla Take Action, agire, i lavoratori esprimono il loro disappunto rispetto alla decisione di Mark Zuckerberg di non intervenire sul post di Donald Trump, in riferimento alla minaccia prontamente oscurata da Twitter che il presidente americano ha espresso contro i manifestanti in piazza per sostenere la causa di George Floyd soffocato fino alla morte da un agente di polizia. Se saccheggiate, noi spariamo, scrive Trump. Secondo il New York Times, Zuckerberg avrebbe avuto un colloquio telefonico con il presidente. Si è rifiutato di cancellare il post perché il messaggio contenuto non violerebbe le regole della rete. La dichiarazione ha scatenato l'ira dei suoi dipendenti che hanno definito il comportamento ingiustificato e incomprensibile. Il numero uno di Facebook ha provato anche a spiegare attraverso il suo profilo personale che avrebbe avuto una reazione negativa davanti a quel tipo di retorica incendiaria destinata ad accentuare le divisioni. Ma, dice Zuckerberg, non posso agire secondo le mie inclinazioni personali, devo difendere sempre e ovunque la libertà di espressione. La giustificazione non è servita a placare gli animi in considerazione alla valanga di messaggi che gli sono stati rivolti. Diffondere odio non ha nulla a che fare con la libertà di parola, dicono in molti. Altri commentano, la storia giudicherà la sua mancanza di spina dorsale.